Reggio adesso è una città moderna, una città che si proletta verso il futuro, ma che soprattutto vuole essere una città aperta alla cultura, al dialogo, ma soprattutto una città che vuole essere baricentrica per quanto riguarda anche un aspetto regionale, ma anche, perché no, sul Mediterraneo che, devo dire, è una prospettiva di grande sviluppo e di grande voglia di crescita della città, ma della regione intera.